Era il 1994, la storia di Giuseppe e mamma Lucia commosse tutti, entrambi erano in attesa di un trapianto di cuore. Quando giunse la chiamata per la madre la donna chiese di cedere il cuore al figlio, non fu possibile perché non c'era compatibilità. Poi arrivò anche per lui la chiamata e a distanza di 15 giorni entrambi ebbero un cuore nuovo, ma Giuseppe che aveva appena 31 anni non ce la fece. Nel 2010 anche la sorella Regina, stanzione affetta dalla stessa patologia cardiaca ereditaria, ha avuto un trapianto di cuore. Tre anni dopo è toccato alla nipote e Regina ha voluto raccontare in un libro la sua storia familiare. Nucore, na vita, è scritto per donare speranza a chi vive in attesa di un trapianto e per sensibilizzare sull'argomento. Domenica si terrà la presentazione a Napoli al Campania Libri Festival, ma prossimamente si intende avviare un'iniziativa anche nella città di Regina, Nocera Superiore. Il 1994, luglio, è stato un calvario perché nello stesso momento in cui mio fratello era in attesa di un cuore, anche mia mamma era sorta nuova vita, anche se dopo 15 giorni era sorta un rigetto anche da parte di mia mamma. Nello stesso momento è avvenuto anche il trapianto di mio fratello, quindi ritrovarsi nella stessa terapia intensiva a pochi metri di distanza, madre e figlio, in cui mia mamma è in fin di vita perché aveva questo rigetto e quindi mio fratello anche in fase quasi terminale, quindi vedere una mamma soffrire, anzi sentire le sofferenze di un figlio accanto al suo letto e non poter fare nulla perché anche l'entubata è stato un calvario. Grazie alla donazione degli organi sono qui adesso con voi a poter fare questa intervista. È importante sensibilizzare questa notizia perché purtroppo a volte non si arriva al trapianto e quindi il paziente non arriva a vita nuova perché purtroppo ci sono poche donazioni. Quindi attraverso il racconto della mia storia, tra sofferenze, pianti, lacrime, cerco di sensibilizzare questa notizia e quindi soprattutto dare speranza e luce a chi in questo momento necessita di un organo in attesa di una nuova vita. Nel momento in cui arriva la notizia di un cuore e da una parte c'è una parte di me stessa in cui io gioivo di una nuova vita, però dall'altra parte pensavo alla famiglia e quella famiglia di chi mi aveva donato il cuore e ovviamente lo strazio di quella famiglia nel momento in cui si perde un proprio caro. Io so cosa significa. Sono momenti belli ma anche un pochettino dolorosi in quel momento. Grande luminare, cardiochirurgo Ciro Maiello che è stato, diciamo, lui che mi ha operato e quindi mi ha portato a vita nuova grazie anche a chi mi ha donato il cuore ovviamente, innanzitutto e a Dio. Poi tu tieni tanto anche per la nostra superiore città in cui vivi e per questo che insieme all'amministrazione Cuofano, al consigliere comunale Raffaele Satiro state pensando di attuare qualche iniziativa anche qui in città. Sì, infatti, allora io siamo, diciamo, per me è un grande onore poter presenziare anche nella mia città di appartenenza, soprattutto perché il sindaco Giovanni Maria Cuofano è l'assessore comunale, il mio grandissimo amico Raffaele Satiro, a cui veramente è sempre stato presente nei miei momenti di bisogno e loro tengono a cuore questo argomento e quindi in pratica prossimamente ci sarà anche questo grande evento. Per me sono molto onorata, insomma, di poter essere partecipe e dare, divulgare questa notizia soprattutto della donazione degli ordini, anche nella mia città. Grazie a tutti.